Allora, stare qua su un palco all'interno di questo cerchio rosso illuminato da queste luci con tutti questi occhi che mi guardano, devo dire che per me non è assolutamente semplice. Sono una persona timida e ho scelto il montaggio anche per questo, perché mi ha sempre permesso di stare nella mia comfort zone che è appunto una sala di montaggio lontano quindi dalla vita caotica ed emozionante del set cinematografico. E oggi, come tante altre volte nella mia vita, ho pensato che sarebbe bello usare il montaggio nella vita reale, perché avrei sicuramente potuto post-produrre questo mio discorso togliendo gli errori, le imperfezioni, le mie esitazioni e avrei potuto offrirvi un discorso fluido, chiaro ed efficace. Però forse, al di là del fatto che non è possibile, avremmo un po' perso l'emozione del momento e anche appunto questa voce che trema ed empatizzare con la persona che sta parlando. Quindi oggi proverò a fare questo discorso live. Ma cos'è che fa di così interessante un montatore? In fondo passa tutta la sua giornata davanti a uno schermo del computer. Questa è una timeline, ovvero il piano di lavoro di un montatore qualsiasi e può essere un po' visto anche questa immagine come un corpo creato da Frankenstein perché non è altro che l'assemblaggio di elementi diversi. Ad esempio vediamo le musiche che sono tutte quelle parti in giallo in basso, poi ci sono le parole, le parti verdoline e poi ci sono le immagini, tutte quelle parti azzurre. E quindi se ci pensate bene un po', le emozioni che noi proviamo al cinema derivano in fondo da questo mostro. E quando noi guardiamo un film è sempre chiara, secondo me, l'idea artistica di un regista. Così come è chiaro magari il lavoro che fa un direttore della fotografia grazie alle luci che utilizza, la pasta delle immagini, ma anche ai movimenti di camera. E può essere ben evidente anche il lavoro che fa un attore quando si mette in scena e utilizza il proprio corpo per esprimere delle sensazioni. Però il montaggio per uno spettatore è difficilmente percepibile. E quando io ho pensato al montaggio mi sono venute in mente alcune parole. La prima è senz'altro la parola invisibile. Perché appunto il montaggio in parte deve essere invisibile. Cioè lo spettatore non deve percepire il taglio, non deve percepire che la continuità dell'azione è stata interrotta. E quindi il suo lavoro, ahimè, è un po' inosservato. Un'altra parola che mi fa pensare al montaggio è sicuramente la parola intimo. Perché lo spazio di lavoro di questa fase è uno spazio solitario, riflessivo, piccolo, ben lontano dalle luci del set cinematografico. E intima è anche la relazione che si staura, ad esempio, tra un regista e un montatore. Perché il montatore deve essere bravo a cogliere l'idea artistica del regista e ad avvicinarsi il più possibile con il proprio lavoro all'idea del film, al film che il regista aveva in testa. E in fondo intima è anche la relazione che si staura tra il montatore e le immagini stesse. Perché basta pensare a tutto il tempo che un montatore passa davanti alle immagini. E infine una parola, l'ultima parola che mi è venuta in mente è la parola intuizione. Perché, almeno per quanto mi riguarda, questo processo creativo che avviene nel montaggio è un po' frutto dall'intuizione. Cioè non c'è una regola che dica quanto un'immagine deve stare, deve durare. Ma in qualche modo, cioè io non so mai, prima di mettermi sulla timeline, il tipo di film che uscirà fuori. E quindi per me è molto intuitivo e istintivo questo processo. Perché io provo, sperimento, accosto le immagini e improvvisamente io sento a un certo punto che la sequenza funziona. Quando mi sono avvicinata al mondo delle arti visive, per me è stato naturale scegliere il montaggio. Proprio per queste caratteristiche. Cioè io essendo una persona timida, che non ama stare esposta, magari o sotto le luci come un regista, ho scelto il montaggio perché il montaggio mi ha sempre permesso di sperimentare, ma anche di sbagliare, perché questa cosa sul set non è concessa. E quindi ho scelto di venire qui oggi, perché ho pensato anche che, proprio perché il montaggio spesso non viene considerato come dovrebbe, è importante secondo me parlarne e far capire quanto in realtà sia affascinante e quanto potere abbia il montaggio all'interno della creazione di un film. Dopo la laurea allo Iulme, ho seguito un corso agli Atelier Varan di Parigi che si intitolava Montaggio, la scrittura del documentario. E il fatto che si accosti la parola scrittura al montaggio ci deve far capire quanto in realtà durante il montaggio c'è una sorta di riscrittura del film ed è assai importante. E durante questo corso ci è stato fatto fare un esercizio che per me è stato davvero illuminante e determinante nella scelta che poi ho fatto di fare questa professione. Ovvero ci hanno diviso in sei gruppi e a ciascun gruppo hanno dato lo stesso materiale girato. Non c'era però un regista che in qualche modo ha guidato la visione di questo girato e dopo tre giorni ci siamo ritrovati a guardare il lavoro di ognuno. E quello che io ho visto erano sei film completamente diversi ma non erano sfumature, cioè dei cambi di piano erano proprio sei film totalmente diversi cioè si passava dal documentario alla finzione alla videoarte e quindi questo mi ha fatto capire quanto in realtà io, da montatrice potessi dire la mia e contribuire a creare qualcosa che non era solo del regista, che non era solo della troupe ma potesse anche essere in qualche modo mia anche se arrivavo alla fine di tutto. E io ho voluto fare anche io un esercizio proprio per farvi rendere in maniera evidente questo concetto ovvero ho preso delle immagini da stock qualsiasi e ho provato a montarle sempre in maniera diversa non avevo anche qui in questo caso non c'era un regista che mi guidava quindi mi sono lasciata trasportare da quello che le immagini mi trasmettevano. Primo esempio. Allora, in questo primo caso mi sono lasciata, diciamo, mi sono divertita con le immagini non c'è una linea narrativa, il montaggio qua è dichiarato, è sincopato segue un po' il ritmo della musica, ho giocato anche con le immagini sdoppiandole, mettendo degli effetti visivi quindi il risultato potrebbe essere un videoclip o un video che va sui social però cosa succede se io adesso a queste stesse immagini applico ad esempio una voce? Secondo contributo. La paura, la paura è sempre presente c'è parla, non c'è l'entrazione che fa che non c'è più peur Le parcours c'è una forma di s'adapteri a l'environnement che ci siostra quindi tutto tipo di architettura quindi c'è lavorare delle tecniche in questo caso a guidarmi sono state le parole e vedete proprio come cambia totalmente il tono del film perché intanto c'è una narrazione lo spettatore si immedesima nel protagonista e lo vede in maniera diversa il tono è rilassato e sospeso e anche le immagini acquistano una diversa percezione nello spettatore cioè il fatto di accostare ad esempio alla parola paura l'immagine del protagonista che sta per saltare ti fa veramente percepire che forse quel momento lì è un momento particolare e delicato per chi fa parcours quindi in questo caso potrebbe benissimo essere una sorta di documentario, un inizio di documentario sul parcours vediamo l'ultimo esempio qua l'atmosfera è data assolutamente dalla musica dagli effetti sonori ma anche dalla color ed è questa atmosfera che mi ha guidata anche nel montaggio perché se ci fate caso ho scelto tutti quei momenti in cui il protagonista non è visibile quindi accresce questo senso di inquietudine come se lui volesse scappare o fuggire da un pericolo e in questo caso qua questo potrebbe essere magari un trailer di un corto di finzione quindi riassumendo chi è veramente il montatore? può essere considerato un protagonista secondario all'interno della creazione di un film? io penso proprio di no nel senso che il montatore ha una grande responsabilità cioè quella di raccogliere il lavoro di tutti in primis quello del regista e cercare di dare forma a delle emozioni e quindi ha tante sfaccettature perché il montatore può essere visto un po' come un tessitore che intreccia i fili e il modo in cui sceglie di intrecciarli dà vita di infinite possibilità però il montatore è anche un po' come un meccanico che ripara quelli che sono stati gli inconvenienti sul set infatti tante volte si dice vabbè la risolviamo in post produzione e infine il montatore come abbiamo visto per Frankenstein può essere un po' come un chirurgo che incide e sutura le immagini però io credo che alla fine il montaggio ci ricorda soprattutto una cosa cioè che a differenza che nella vita reale dove il taglio è sinonimo di ferita e cicatrice al cinema il cut è un taglio costruttivo cioè si taglia per unire per unire e dare forma alle emozioni e quindi penso che sia proprio questo il senso del mio lavoro ma soprattutto il senso del montaggio al cinema grazie 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 grazie